E' tempo di Open Day all'Istituto Professionale Vincenzo Cuoco di Campobasso, una scuola al passo con i tempi che offre una panoramica ampia di scelta formativa, tra gli indirizzi socio-sanitario, odonto tecnico e web community. Il socio-sanitario è più indirizzato ai ragazzi che vogliono entrare in contatto col mondo sanitario e quindi vogliono avere delle prospettive sia da un punto universitario ma poi soprattutto da un punto pratico spendibile col mondo della sanità. L'odonto tecnico invece è fortemente caratterizzato da una professionalità specifica, è chiaro si lavora soprattutto con gli strumenti che permettono poi di avere quella capacità professionale per estrarre subito uno studio odonto tecnico e lavorare. Web community è di nuova istituzione, è un commerciale sostanzialmente quindi rivolto verso il commercio, però è un commercio che ha la sua apertura verso il mondo di internet, verso gli scambi virtuali. E quindi vediamo che in questi anni l'accelerazione che c'è stata verso gli acquisti e le vendite su internet permettono di pensare a una figura che operativamente sia in grado di aiutare e svolgere queste funzioni in studi, in collaborazioni, in attività nuove che permettono appunto di usare il marketing in modo operativo su internet. Offerta formativa al passo con i tempi anche per l'IPA Montini. L'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica è sempre più ambito e permette agli studenti uno sbocco professionale immediato. Un indirizzo molto richiesto dalle aziende anche molisane perché c'è una fame, diciamo la verità, di operatori che siano in grado subito di entrare in azienda, di entrare nella fabbrica e cominciare a dare il loro supporto attivo. La manutenzione è un campo assolutamente vasto però noi riusciamo a dare ai ragazzi quella manualità, quella capacità di introdursi in azienda, introdursi nei servizi e poter svolgere da subito la loro attività in modo operativo e valido.